Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come installare il firmware Jets Maverick negli ESC BL-LiS. L'aggiornamento è valido per tutti i tipi di ESC, 4 in 1, singoli o integrati nel Flight Controller. Jets Maverick è un'alternativa gratuita a JESC, e serve per attivare gli RPM filter su Betaflight. Se invece state cercando i 48kHz il mio consiglio è di usare direttamente JESC, in quanto la sola componente di 48kHz è gratuita. La prima cosa da fare quindi è scaricare e installare il BL-LiConfigurator, vi lascio il link in descrizione. Io ho Windows quindi scarico questo file. Per leggere o aggiornare il firmware è necessario che la batteria sia collegata al drone, quindi è molto importante rimuovere le eliche. Bisogna fare sempre molta attenzione perchè i motori in fase di aggiornamento potrebbero anche avviarsi all'improvviso. Dopo aver rimuosso le eliche e collegato alla LiPo andiamo in PORT, e scegliamo la COM giusta. Poi clicchiamo su CONNETTI. Adesso clicchiamo READ SETUP. La prima cosa da verificare è la versione degli ESC, in particolare controlliamo in questo punto, prima del numero, se abbiamo una H o una L. Se qui abbiamo una H, gli ESC sono compatibili con Jets Maverick, mentre se qui c'è una L dobbiamo fermarci, i nostri ESC non sono compatibili e non possiamo installare questo firmware. Una volta individuato il target specifico per i nostri ESC, annotiamolo perchè ci servirà più avanti. Il mio quindi è GH30. Andando nella pagina ufficiale di Betaflight possiamo notare che la versione raccomandata è la 16.73, in quanto sono stati riportati vari problemi con le versioni successive. Per questo motivo oggi installeremo proprio la versione 16.73, ignorando le altre. Ora non ci rimane che scaricare Jets Maverick dal sito Github, come sempre il link è in descrizione. Come abbiamo detto la versione che ci interessa è la 16.73, quindi clicco qui. In questa pagina abbiamo tutti i target disponibili in ordine alfabetico. Scorriamoli fino a trovare quello che ci interessa. Il mio era GH30. Una volta individuato il file giusto lo clicchiamo. Ora ci posizioniamo sopra la scritta RAW e clicchiamo il tasto destro, poi salva destinazione con nome. Ora possiamo ritornare sul BLE riconfigurator e clicchiamo su FlashAll. Quindi scegliamo il file manualmente. E clicchiamo sul file che abbiamo scaricato. Come vedete partirà in automatico l'aggiornamento firmware. Perfetto, l'aggiornamento firmware è finito, ora i nostri ESC sono pronti per usare gli RPM Filter. Ora ritorniamo su Betaflight e verifichiamo che il firmware che abbiamo installato funzioni correttamente. Salto tutta la parte relativa alla configurazione in quanto ho già approfondito questo argomento in un altro video. Se non sapete quindi come configurare gli RPM Filter potete seguire il mio tutorial, vi lascio il link in descrizione. Quindi sempre con le eliche rimosse attivo il controllo motore e faccio una prova. Come vedete qui c'è un valore in percentuale che deve rimanere in un range compreso tra 1 e 0%. Perfetto, attivando il motore non supera l'1%, il firmware quindi riesce a gestire gli RPM Filter senza problemi. Per oggi è tutto, abbiamo visto i passaggi necessari per installare Jets Maverick su BLLS in modo da poter usare il RPM Filter con Betaflight. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei Patrons cliccando il link a fine video. Grazie a tutti.